Pollichina. Sono piccoli e sono grandi, sembrano pochi ma invece sono tanti. Automatizzazione del lavoro significa trasformare le persone in automi. Ha spasso con la vita al guinzaglio, ma mi raccomando, sempre con la museruola perché a volte morde. E poi arriva lei, la maledetta sveglia, a strapparti brutalmente dai tuoi sogni, anche da quelli più meravigliosi e vividi. Quelli più dolci, intensi e concreti, ma forse è meglio se ti svegli e ti dà una mossa, perché loro sono già in piedi da un bel pezzo.